La favola bella porta in scena nelle scuole pescaresi la storia del Grinch, che diverte e incuriosisce. Gli spettacoli rientrano nel progetto Natale in periferia, sostenuto dal comune di Pescara. Attore per un giorno, anche l'assessore alla pubblica istruzione Giacomo Cuzzi, nello spettacolo alla scuola primaria Rodari, con la compagnia teatrale La favola bella nella storia del Grinch, che rubò il Natale. Una visita per inaugurare le tante attività extrascolastiche che anche quest'anno l'amministrazione comunale ha messo in campo per regalare a detto Cuzzi alle scuole cittadine momenti di bellezza, di divertimento e riflessione. Manco a dirlo, divertiti i bambini che hanno partecipato attivamente allo spettacolo con gli attori Roberto Di Giulio, Piero Campili, Paola Dintino e Rossella Micolitti. Siamo molto felici, questo lavoro verrà fatto soprattutto focalizzato sulle scuole che da sempre sono considerate periferiche, ma non dalla nostra amministrazione, sia per gli interventi di manutenzione e di progettazione dei lavori e della messa in sicurezza e sia per queste attività che rappresentano un punto fondamentale del nostro mandato. A proposito di riqualificazione, sono partiti intanto dei lavori? Sì, sono partiti dei lavori di manutenzione straordinari. In estate avevamo appaltato già 200.000 euro di lavori per 20 scuole della nostra città. Adesso sono partiti dei lavori che riguardano anche la scuola di via Salaravecchia, dove ci troviamo adesso e prima di Natale verrà consegnato il progetto esecutivo che ci consentirà di avviare per l'anno prossimo i lavori di riqualificazione più importanti. E poi avremo anche una bella festa di Natale nella giornata del 17 con tutti gli istituti comprensivi. Ci sarà Giorgio Pasotti, Vincenzo Livieri, Nicolo Livieri e Piero Mazzocchetti. Quindi sarà una grande festa per tutte le scuole della città. Lo spettacolo La storia del Grince che rubò il Natale della favola bella si è svolto nell'aula magna della scuola elementare Rodari, aula che sarà dedicata al piccolo Sebastian, il bimbo di 10 anni scomparso prematuramente nel giugno scorso. Un modo per ricordarlo ha detto la dirigente scolastica che ha annunciato anche un premio a lui dedicato.